E' un momento particolarmente caldo questo per l'Italia, per i lavoratori, soprattutto per tutti i dibattiti che ci sono sul problema dei salari, sul problema della sicurezza, sul problema del rinnovo dei contratti. Affrontiamo qualcuno di questi argomenti con Stefano Mastro Vincenzo, segretario provinciale della CISLE di Ancona. Iniziamo subito dal tema dei salari, il tema proprio caldo della cronaca di questi giorni. Sì, è evidente ormai a tutti che questo problema sta pesando molto sulle tasche di milioni di lavoratori italiani e non solo, ci sono anche le pensioni che sono ferme con un'indicizzazione molto bassa. Noi abbiamo posto questo problema al governo Prodi con un articolato documento a novembre chiedendo di aprire un confronto, poi questo tema è diventato dibattito comune all'interno delle forze politiche anche in vista della campagna elettorale. In questo periodo infatti le nostre proposte che andavano nella direzione di sgravi fiscali per le famiglie, in particolare per le famiglie con figli, sgravi fiscali per i lavoratori dipendenti e pensionati e anche per la defiscalizzazione degli aumenti contrattuali di contratti integrativi, sono proposte che stiamo cercando di tenere calde in vista del nuovo governo. Quindi chiunque vincerà sarà in qualche modo contattato dal sindacato confederale per riaprire questa vertenza, questo tema che è così importante oggi per così tante famiglie. Un tema che è sempre d'attualità, sempre all'ordine del giorno per la difficoltà di tante famiglie di chiudere anche il bilancio finale del mese? Certo, qui c'è un problema da un lato culturale anche, è ovvidente che in una società di consumi così evoluti come la nostra nel momento in cui si manifestano delle difficoltà a mantenere lo stesso livello dei consumi questo chiaramente crea problemi. Quindi da un lato c'è un problema anche di rivisitazione del nostro modello di sviluppo ma dall'altro c'è un problema reale, molte famiglie con salari da lavoro dipendente dopo l'avvento dell'euro ma non per colpa dell'euro ma per come è stato gestito si trovano oggettivamente in difficoltà. Quindi evidentemente bisogna intervenire, si può intervenire con la leva fiscale, si può intervenire anche con la leva dei contratti perché sono comunque salari che sono tra i più bassi d'Europa e quindi anche gli imprenditori sotto questo profilo devono fare la loro parte. Qualche altro argomento caldo della Cisle provinciale di questo periodo? Un argomento che ci sta molto a cuore come del resto in tutta Italia è stato portato anche questo all'ordine del giorno in maniera forte dopo le stragi della Tissen e l'ultima di Molfetta il tema della sicurezza del lavoro. È evidente che questo è un problema generale che si risolve in parte con le normative, siamo contenti dell'approvazione del decreto da parte del governo Prodi anche nella fase finale del suo mandato ma non basta. C'è un problema di quantità delle ispezioni e qualità delle ispezioni che vengono fatte, c'è un problema di formazione dei lavoratori. In questi giorni sono svolte in collaborazione positiva con Regione, con l'INAIL e col sindacato dei incontri formativi per decine, direi centinaia, nella provincia di circa 400 rappresentanti dei lavoratori della sicurezza. Proprio per ripartire con una grande campagna informativa perché è necessario sulla sicurezza lavorare da un lato sulle normative, da un lato sulle ispezioni e quindi sulle sanzioni alle aziende in adempienti, dall'altro anche dal lato della formazione e della partecipazione dei lavoratori alle scelte per la propria sicurezza. Quindi prevenzione, non solamente molte sanzioni ma anche attenzione al rispetto delle norme, alla conoscenza sia da parte dei lavoratori che delle imprese? Certamente perché è un problema di carattere culturale, poi ci sono sempre le aziende in adempienti che cercano di abbassare i costi applicando le normative, però spesso purtroppo troviamo anche che a volte dei lavoratori non utilizzano per esempio i presidi che hanno a tutela della loro salute perché magari non sono stati adeguatamente informati o per leggerezza. Quindi è un problema culturale di carattere generale, le sanzioni ci vogliono, quindi le urla di Confindustria di questi giorni che dicono no alle sanzioni per gli industriali sono per noi, veramente dopo le stragi di questi giorni, sono veramente poco dignitose. Però sappiamo anche che c'è un problema di coscienza da parte dei lavoratori, di consapevolezza, di informazione a tappeto, specie per i più giovani. Non è un caso che al di là di questi casi grandi, tipo quelli della Tissen, di queste stragi, diciamo così numerose, la gran parte degli infortuni avviene nelle piccole aziende, specie con i giovani, specie per esempio con i lavoratori immigrati o con i lavoratori con contratti precari, perché su questi viene fatta meno informazione, viene fatto meno investimento anche da parte delle imprese. Bene, quindi la Cisle Provinciale di Ancona con il suo segretario Stefano Mastro Vincenzo sta attivando tutte le procedure, soprattutto i contatti, tutto il lavoro di studio per essere vicino ai lavoratori, per essere vicino alle famiglie, per seguire tutti i problemi contrattuali di rinnovo dei contratti e dei salari che in questi giorni sono sulle pagine dei quotidiani, che stanno un po' occupando anche le polemiche o i dibattiti politici. Per Vallesina TV è tutto.